Cartier Tank Vermeil, eleganza senza tempo e prestigio. Il Cartier Tank Vermeil è una gemma nella celebre collezione Cartier Tank, il cui inizio risale al 1917 con la geniale mente di Louis Cartier. Consideriamo alcune delle caratteristiche chiave che rendono il Cartier Tank Vermeil un'opera d'arte. 1. Design iconico. La forma rettangolare classica con angoli smussati del Tank Vermeil è il simbolo dell'eleganza geometrica di Cartier. 2. Materiali di alta qualità. Cartier utilizza acciaio inossidabile e vermeil, una pregiata placatura d'oro su argento, per garantire durata ed estetica. 3. Movimento svizzero di precisione. Ogni orologio Cartier Tank Vermeil è equipaggiato con un movimento svizzero di alta qualità. 4. Versatilità di stile. Grazie al suo design classico, il Tank Vermeil si adatta perfettamente a una vasta gamma di occasioni, dalla formalità all'informalità. 5. Dettagli iconici. Numeri romani stilizzati, lancette blu acciaio e una corona ornata da un cabochon di zaffiro, sono dettagli distintivi che evidenziano l'attenzione ai dettagli di Cartier. Il suo design classico lo rende un compagno ideale per ogni occasione, evidenziando la sua adattabilità e versatilità. Gli orologi Cartier, inclusi i modelli Tank Vermeil, godono di una popolarità senza pari tra le celebrità di tutto il mondo. Le star di Hollywood, i musicisti e gli iconici personaggi preferiscono Cartier per la sua combinazione di prestigio, stile e maestria artigianale. Indossare un Cartier è un segno di appartenenza a un'esclusiva cerchia di eleganza e raffinatezza. Investire in un Cartier Tank Vermeil è più che un acquisto, è un ingresso in un mondo di classe, prestigio e distinzione.